Ciao amici, nella partita di sabato 4 luglio il Milan ha battuto la Lazio 3-0 all'Olimpico fermandola nella sua corsa a scudetto con la Juventus. Detto questo, è stato un grande Milan, un Milan che ha dimostrato di avere organizzazione di gioco in attacco ma soprattutto anche una grande compattezza difensiva. Tre punti fondamentali per il Milan che hanno permesso alla squadra di salire in classifica, arrivare al sesto posto e di superare il Napoli di Gattuso. Io da milanista sono contentissima, sperando che il Milan continui così perché questa è la squadra che noi vogliamo vedere. Diamo fiducia a loro e anche a Stefano Pioli che sta dimostrando veramente tanto. Detto questo, vi saluto, sono Martina Osorio e ci vediamo nella prossima storia. Ciao! Ciao!